allora qualcuno che poter utilizzare qualcuno che poter utilizzare poter utilizzare knife shadow no aspetta no come si chiama lui come si chiama la tigre del bengala con delle capsule chompi stanno impedendo agli archeologi di finire il loro lavoro sgombra le rovine per permettere agli archeologi di tornarvi i patroni dei portali cosa fa quel ciò che si stava leccando l'occhio ma che schifo sconfiggi 95 ciompi è il caso devo cambiare ha fatto via e poi ha cambiato che vediamo come si chiama questo qua te la pesciano e sempre con la maschera pagata perché ok dai lasciato fa fa vedere quello che stai fare perché è bello che è sport molto bene allora quindi lo stesso tempo limite di quattro minuti sempre meglio arrivano i campi piuttosto ok allora vedo che ci sono due per trasporti a me di sicuro scommetto che ho beccato la piappola eh no oh non l'ho beccata la piappola per se fosse una piappola invece no ok lo so adesso ho notato che c'era la metà però ok e adesso l'ho beccato esatto lo sapevo beh una volta la piappola la dovevo beccata la dovevo beccata la dovevo beccata perché è appunto la prima volta che faccio questo livello in tutta la mia vita o almeno così che mi ricordo sia la prima volta che faccio tutta la mia vita almeno così mi ricordo io la mia memoria mi inganna allora vediamo ok arriva ci sono i cioppi flash morite ciompi ciompoccio oh ciompi ciompoccio uno è una trappola prego fa che oddio lo sapevo dai siamo ne marcano 24 in croce sto più veloce saltando vai abbassiamo questi cioppi flash madonna sono più svegli a saltare che a correre cosa li stai con gli scardi allora dai ne marcano 5 5 sulla croce 5 sulla croce 5 sulla croce 4 ai lati 1 e mezzo pochì sono spariti tutti c'è no appena padrone dei portali ora che hai tolto di mezzo quelle capsule ciompi gli archeologi potranno proseguire il loro lavoro eh 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 no guarda cos'è? tempo buono su 600 mi scelgo finito di leggere eh ho vinto per forza eh avevo vinto per forza per forza in questa è la madre fa a botte sono una campionessa molto bene qui abbiamo avuto tre tre stelle bene ok griboli infiltrati trovi griboli travestiti da pecore e ferma li vedo non dovrebbe essere difficile di conoscere un qui riconoscere una pecore vabbè non ha fatto se una c'ha dei bottoni e poi sto io sono cercata qua di prendere via padrone dei portali dei grigoli travestiti da pecore vogliono rubare i tesori degli archeologi devi individuarli e per morli per controllare quello che dovremmo controllare elimina 10 qui i portali stiti da pecore e vabbè non è così difficile dai potete che non vi mettete in mezzo 50 pecore allora ho 4 minuti limite allora una pecore da quel che so non si non si come si può dire non eccolo non cammina su due gambe perché il pecore cammina su qualche caso qua devo prendere continua così e devo fare praticamente devo posare qualsiasi pecore che vedo perché allora testa e goto del cosa c'è che testa e goto dell'aria eh ecco appunto ecco l'ho in postura scoperto drivo scoperto toglietevi di mezzo scoperto poi c'è l'anguio ok non prenderò perché sono piada di vita saluta a me stessa ecco ne vedo uno te non c'è tu fico seco e quindi devi sapere fuori dai maroli ok signor stregocco lo dico pezzo bene pertanto ormai l'ho fatta poi dai ne vacano 5 e sono una vera 7 queste cose allora eccolo eccolo eccoli eccoli voi no dove sei dove no ma dove sei coglioni che faccio lo tirano su come le gondine ma non la fanno ne mancano due ma poi sei pieno poverina ah stai torna con la lara cosa stavete a fare molto bene e adesso non appena battiamo questo scompare hanno vetti esatto scompare anche travestiti da pecore i gribble significano guai gli archeologi ti sono molto grati per aver fermato quei forfanti e salvato i tesori e anche qua tre stelle grande ok salsa di cioppi chiudere vado che poppano che poppano salsa di cioppi nell'acqua ma che cosa se diciamo il liquido che usa di cioppi di fuoco per andare a fuoco non so non mi viene in mente altro perché la salsa è piccante no solitamente la sassa di cioppi ma presto devi chiudere le valvole prima che sia troppo tardi e questa mi storia che è un po' più lunga quindi sei dove vedremo i tuoi sui salsa di cioppi ok quindi è veramente la salsa piccante del scala allora chiusa una ovviamente salta fuori il chef gribble il gribble chef fu fancy oh sempre tempo 5 minuti per fare queste robe attenzione alle padelle ecco ne vedo una anche alla sopra molto bene l'ultimo è tanto vuoto non è bello eh scendi scendi ok occhio alle padelle occhio alle padelle ma basta io faccio schifo schifare le cose faccio schifo e non va bene cosa si può vogliare spiegare tutti i boss cioè tutti i boss a eccezione del primo perché il primo già ho avuto tre stelle già prima volta che l'ho fatto ok posto pensavi che non la vedevo pensavi che non vedevo quella salve pescianziani tranquilli non vi forse non li lascerò far diventare dei tacchini non li lascerò fare in modo che voi diventiate dei tacchini acquatici ecco questi qua stavano usati in macarena per farmi male allora testo di fatto hai ronto hai ronto hai ronto sì hai ronto anche te hai ronto anche te adesso andiamo di qui andiamo di qui questi invece mi stacco con i speedini piccoli marshmallow quanto potrebbe fare male il massimo quanto è puntito sono andate quattro andate sono andate quattro in alto eh ma sono assolutamente veloce che ne aveva ma c'è neanche prima di spiegare cioè una chiave a passo questo qua questo qua ecco posso ne manca una ok dai dai queste vicine comunque sono piuttosto veloci non so se lo avete ne ho fatto io ho preso tutto nel patello in realtà e questa volta ti amato subito perché ero questi mi hanno stressato ecco mi avete stufato tutti e anche la salsa ciò che mi ha stufato io non maggiorò mai se sta piccata tutta la vita e anche questa volta due stelle grazie grazie